guardate boh, Claudia, andiamo, no? saluta eh, mangiare l'abbiamo mangiato serata, peraltro, come voleva si dimostrare, pessima ah dai, divertiti un po' ma che divertiti che sono pieno di prodotti tipici gonfio come un canotto dai, su dai, e a casa, avevamo detto i patti erano... Claudia perché tiri gli... dai, Claudia, adesso basta, eh Claudia, e a casa ah, allora ah, che... ah, che... ah, che... ah, che... Basta, basta! Basta, basta! No, no, no! Ecco quello no, no! Quello no! No la gonna, no! Eh no! Eh no la gonna però! No, no! Buongiorno! 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 Trovato? Apreta la porchetta! Apreta la porchetta! E in verità, mira, secondo me, che schifo! Tu che stai di qua, vero? Non ci vado un anno circa, mi sono innamorata del posto Il posto è meraviglioso, dai, il posto è meraviglioso Io ho una gazzettina, vedete la spiaggia, vedete la spiaggia in fondo? C'è la spiaggia, giù, 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 giù c'è una spiaggia Piccoli, però c'è una gazzettina, c'è una gazzettina Perché io, sai cos'è, capisco il senso ma non proprio tutto il... Scusa, che sembra invece... Tu sei meglio unico? Io sono fratelli, cioè vi con i miei fratelli... Ah, fratelli, due fratelli Io pure mio fratello Anche io vivo con lui, io ho l'un anno Io ho l'un anno proprio, in questa gazzettina E lui, era una persona... Che è? Scusa Ho bisogno di una cosa A mio frate mi piace tutto in Italia quindi potrebbe uscire benissimo le giornate Soltate che se non le volevo uscire Noi le volevo uscire perché non ce lo sentivo perché era la bia Era un cazzanone, era veramente rimasto dentro casa Ma sono le cose, ma perché, 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 perché L'Inter ha perso 3-0 Ma no! Ma perché! Ma che bisogno c'era di dire questa cosa qua adesso, perché? Che stavi parlando d'altro, almeno mi è sembrato intuire argomenti altri, il mare, la casa, ma perché devi dire la cosa dell'Inter, perché? Serata rovinata, perché? Perché? Cosa che bisogno c'era? Bel video, vero? Allora, oggi la novità è che Ant-Man prende il posto di Batman vs Superman, ok? I Marvel Studios sono infatti approfittato del rinvio di Batman vs Superman al 2016 per anticipare la data di uscita di Ant-Man, e fin qui, ok. Spostando quindi la pellicola di due settimane, no? Dal 31 luglio al 17 luglio 2015. Da parte sua, Warner Brothers, non a caso, aveva deciso di rinviare il proprio film nella data prevista da Marvel Studios per il lancio di un progetto ancora senza titolo, ma che molti credono sia Doctor Strange. Ok, tutto chiaro? No? Confusi? Eh, lo so, mi sa che ad Hollywood amano molto giocare a scacchi. Comunque, per rimanere aggiornati su tutte le nuove mosse, voi mettete un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook Anteprima Cinema e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!